le cosine fatto stiamo in quattro chiacchiere ciacciate allora mamma food sta aprendo si si sta togliendo le ehm esatto le etichette abbiamo bisogno di un piatto ah ok allora intanto diciamo che cosa è Flippo è dolce salato è dolce stavi dicendo salato allora è un dolce è un dolce tipico Flippo togli è un dolce tipico di qui austriaco allora c'è una versione originale classica come quasi tutti i dolci di questo dolce tipico esatto c'è una una versione classica e poi ci sono milioni versioni che puoi fare con il cioccolato, la fragola tutte le cose immaginabili ehm e allora vuoi dire come ti chiamano? di tu sono i sono dei bomboloni ehm però sono tipo dei bomboloni ehm però ehm sono ehm sono con la marmellata quelli ehm originali sono con la marmellata ehm e non con la crema e ehm Flippo guarda eccoci qua e poi abbiamo altri tre gusti ehm diversi allora ecco qua io adoro li mangio uno al giorno ok allora non so se li vengono bene aspetta apriamo un attimo allora lo apriamo così poi li metti tutti i quadri qua e poi caldi con la crema o o la nutella e e si gode è vero ehm sì allora però ehm i i bomboloni nei bomboloni esce ehm la crema fuori invece nei craft non non lo riempiono o non fanno uscire la crema a me piacciono più la marmellata in questo caso a me piacciono più i craft perché perché i bomboloni ovvio ti alloppano ovvio pili di i craft sono più leggeri ragazzi sì eh un attimo stavendo un po' di problemi da aprire ecco un attimo oh ok 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 tra qui c'è il paccolettino allora il primo tipo latte si è questo qua non è normale il bombolone normale chissà però di cosa ripieno allora forse non è normale forse sono speciali vediamo 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 quello che mi attira di più ragazzi no questo qua crampen alla cioccolata è il ripieno di cioccolata è il ripieno di cioccolata ce li divideremo tutti in tre e quattro poi questa qua è molto ma si vede molto bene però sopra c'è una polverina di fragola rosa fragola e zucchero e dentro qua si può vedere qualcosa tipo marmellate di fragola vedremo quando lo fai guardate dentro devi tagliarmi a metà si esatto e l'ultimo e l'ultimo l'ultimo ha una glassa allora l'ultimo hai eh si hai c'è una glassa con sopra delle mandorle si vede bene ma forse non c'è ah allora e qui non c'è oh no non ci sono indizi di che cosa non ci sono indizi di che cosa che paniglia dai paniglia paniglia dici allora eccoli qua questi sono i nostri quattro crampen stavo per dire tre non so perché tra le versioni speciali allora ora ehm direi di fare un un piccolo piattino ehm no no uno e e ne mangiamo sempre uno alla volta ok allora no ok ehm da ehm clipo vuole e mangiare tutto via il cioccolato stai attento questa è questa di mangiare no allora ce ne dividiamo tutti questi mi sembrano un po' secchi secchi perchè? perchè che così hanno la crema vedi? però sono buoni per me tutti ok allora ehm da cosa cominciate? no direi con quello semplice quello semplice quello semplice spostali e mettiamo piano quello semplice questo va non trovo ti amo ehm così cadono ehm no dobbiamo far vedere no che cosa esce taglia allora tagliamo per il cuclino per il latte sì devo ok allora ora vediamo cosa esce così allora vediamo se è quello originale ah sì questo qui è quello originale ha la crema di marmellata non è crema di marmellata ragazzi italiano perfetto è marmellata marmellata all'albicocca e questo cappen ha poca marmellata sì poca deve essere tipo fino a qui sì allora lo togliamo di nuovo in quattro io mangio questo ah sì questo vogliamo vogliamo con la crema quindi questo quindi quale? questa qui questa qua? mh ok e io tengo questo e eh questi due li rubiamo no prendete quello qua e questo qua per papi per le persone fuori onda che sono gli altri pochino allora ora proviamo tre tre due uno che buona che buona qui le marmellate ragazzi sono eccezionali veramente ehm sono tutte robe fresche non sono cose chimiche assolutamente qui li vengono a prendere nei boschi le i frutti di bosco boschi 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 ehm boschi un altro un altro un altro poi questo quale decidi insomma quelle più normali a quelli più speciali questo è l'ultimo che è molto speciale ci vedi questa cosa del latte corretto? mmmm no semmai dopo ok con quale procediamo intanto Kripp? facciamo con questo questo puoi dire che loro non vedono ancora questo è un krappen con sopra una polvere con sopra una polvere di non so cosa tipo di fragola ah di fragola sembra zucco ravello e una polvere di fragola no questo qui esatto questo nel stream si vede che 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 io muoio solo a vederli sto fingendo di averlo ora in mano e che sto per mangiarlo dice Ghost allora qui abbiamo già un piccolo indizio ragazzi ci sono dei buchi qui con della marmellata una marmellata un po' marroncina mi so che è una marmellata particolare credo che sia una marmellata di bosco però vediamo brutti di bosco si di bosco di bosco ora abbiamo abbiamo la marmellata di alberi di bosco di bosco di bosco apriamo poi la stream si vede che che è bianco ma invece si è vero non si riconosce tipo rosa rosa pippa pig rosa pippa pig descrizione perfetta allora allora questo e questo cioccolare in centro no questo esatto credo che se lo è meglio che si 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 comunque avevo ragione sembra una marmellata di frutti di bosco o forse o forse è fragola taglio di nuovo in quattro o solo lampone si o solo lampone o solo mirtini può essere no non credo mi sta decisamente venendo fame guardate ragazzi questo pezzo che spettacolo e questo vediamo non costa di meno allora quale prendi? ecco ovviamente ora Filippo si prende quello con più crema ora questi due li rubiamo ho usato il krappen ma non lo ha crema la crema è solo la marmellata la marmellata però la questa polverina qui è molto buona la marmellata di frago eh? eh è poi poi l'impasto è buonissimo è tipo zucchero a velo con zucchero di una granella di frago ascoltate è morbido l'impasto è è morbidissimo è super super fluffy allora vediamo la marmellata oh tu gli è caduta la marmellata sull'alto è vediamo che marmellata è Filippo tu l'hai già riconosciuto è frutti di bosco frutti di bosco frutti di bosco frutti di bosco vuoi? lo vediamo concordo? concordi? non si capisce bene chi sei? fragola? forse è il vertillo no sembra più fragola no no fragola provate mamma provate tu secondo te provate cosa è la fragola? c'era talmente poca marmellata si infatti non hanno proporzioni quella è fragola mamma food che ha un po' di crema non è crema è marmellata a me sembra più di bosco non solo fragola si è un mix no è un mix di marmellata mi sembra un un cappelletto tieni provalo da tutta guarda ecco 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 ok allora io cresco il mio e poi clip con quale vogliamo procedere? con questo questo cioè? cioè è un cappelletto con sopra della crema no no si glassa vabbè crema o glassa non male poi con tipo delle nuci piccoline mandorle mandorle vabbè e tecnicamente si chiamano petali di mandorle ah non lo sapevo non lo sapevo non lo sapevo ecco ora ti ho inquadrato l'ho inquadrato benissimo ora iniziamo la solita inquisitura pronti così sento meglio i sapori allora ora non voglio fare lo stesso guadio perchè loro mettono la crema da questo da questo ma guarda tanto quello tagli in qua si pronti via ah che morbido ragazzi qui ha il ha il il coltello sporco di di marmellata di dell'altro ah vabbè rosa no questo c'è la crema ragazzi finalmente almeno poi di crema no no voglio vedere guarda non è tantissima devo dire no non mettono poca sì sì no le pasticcerie è molto di più sì mi hai messo oh no l'hanno messa tutta da un lato guarda oh ragazzi guardate questo c'è mettere in due meglio no ma guardate ragazzi ah no 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 c'è tanto anche qui io vedo questo e tu mi vedete non hanno fatto molto bene oh oh mio dio ragazzi pronti cosa dare sta proprio al centro l'hanno messa sì allora taglio anche per mami e papi mhm non riesco a tagliare un attimo eh papà viene da mamma punto sto avendo un po' di problemi c'è anche molta crema da voi eh sì è è è quella che sta scavando è crema credo pare che stai a tagliare bosti grazie scusa un po' di grassa uh ragazzi tiriamo un po' su ok cosa assaggiamo? assaggiamo e tu l'hai già assaggiata no l'impasto io assaggio prima la grassa sì la grassa non posso dare la grassa una roba ragazzi è buonissima sono un po' di mandorle in tutto piatto no è buonissima ragazzi mmm anche la massa è buona questo è buono la crema ehm è molto buona però la grassa ragazzi è una cosa è buonissima è la grassa più buona che io ho di qua non parla quindi vuol dire che secondo me mi piace da morire la la crema dentro ehm non è molto fresca si sente ma però è molto buona li fa molto felice allora poi l'ultimo la crema è la crema è fresca la crema è fresca Gosto intanto una faccina che esplode poi l'ultimo trappetto aspetta 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 finisci di mangiare il tempo di mangiare eh sennò si tengo fa il clippo eh certo lui ha anche il latte fa il clippo ha anche il latte io no lo sfumarendo speciale se lo vuoi te lo darò a prendermi giugno lì no no ok qui c'è anche una una colata di cioccolato qui c'è tipo la goccia quindi secondo me c'è tutto il cioccolato da questo rato si vuol dire che devo tagliare dall'altra parte allora la metterà ah si quindi così un latte no si 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 così così si perfetto vai ma io ora facciamo che tutti i è difficile tagliare perchè non puoi tenere grazie papà oh oddio che disastro che disastro vedi ragazzi bella gugu vediamo se è nutella forse è solo è solo cioccolato sciolto spero no secondo me è nutella oh e voilà poi abbiamo ah dopo ci sono anche un'altra piccola sorpresina cioè che dici? oh allora no quale pezzo wipe dip? eh guardali eh direi quelli con la tetra crema alle nocciole tocca di tutti bravo questo allora per per voi per voi questi due e per me questo qui intanto in chat faccine felici comunque il coltello è proprio non si dica non si dica lo so lo so prendiamo il il pancare e e facciamo così bravo sono sporca sul mento e metto anche il latte come è buio ma questo è più adatto con il latte è una cosa spaziale ora ehm buono è una buonità io l'ho messo tutto nell'ate è buono bravo mi sto sporcando tutta mi sto sporcando tutta no c'è già il perletto la mele è che si sporca ah ho tantissima crema eh si di nutella guardate il coltello crema di nocciole è tutto pieno di nutella mhm mi piace 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 proprio muoro non sarà più muoio eh proprio stecchito no non riesco a tenerlo in mano mi piace mi piace mi piace la sua tastiera hai ragione il power più lo più sporco più è buono allora domandona qual è il più buono dei quattro Filippo il terzo che era quello con le mandorle e la grassa si no 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 pensa bene non si decide aiuto non sono tutti e due buoni saranno quattro come due erano quattro eh quattro si però forse sta decidendo tra due eh sì è attivo allora due a pari merito lo ne hai quali sono i due più buoni forse il primo è quello la nutella e il secondo è quello corretto ok ameria il tuo preferito in assoluto il mio preferito è l'ultimo cioè quello al cioccolato a nutella no è buonissimo è una roba dai poi il secondo ehm anche a me è piaciuta molto la glassa quello alla glassa il secondo ah al secondo posto il terzo e il terzo quello normale quello originale di cocca esatto devo anche io anche io dire la mia cautifica viva la nutella la mia prima è nutella nutella la seconda è la crema di la crema e la pasticcera e la pasticcera e il e e il terzo è quello è quello è quello di fragole al frutto di bosco o fragole abbiamo i primi due uguali e però l'ultimo diverso eh a me è quello con con la marmellata di frutti di bosco ehm mi è piaciuto solo che ehm che la la polverina sopra non mi ha fatto infartire per niente non ha niente di particolare no poi però esplicamente era molto bello sì era molto bello in live non so se no se si è visto vabbè erano tutti buoni sì sì eh beh sì certo qui veramente fanno super buoni che non sono bomboloni ragazzi i bomboloni sono più pesanti invece questi in realtà sono proprio giusti sono giusti sì sono molto puff fluffy mamma intanto Filippo non so che cosa si sta facendo vieni con la crema che era con la crema di cioccolato che era sul coltello l'ha messa su una fetta di pane sì ma perché e poi e poi con questa fetta di pane la vuoi mangiare o la lasci qua preferita no e mangialo no lì va proprio la merenda completa si fa una merenda si fa una merenda